Ciao a tutti, live pomeridiana di Davide che sinceramente non sapevo se ascoltare o meno, poi insomma facendo delle cosette mie sul pc mi sono detto vabbè ascoltiamolo e insomma anche oggi ha meritato l'ascolto devo dire, è uscita una perla comunque. Questa live si intitola giornata uggiosa e fredda, d'altronde siamo al 17 di gennaio quindi che ci siano giornate uggiose e fredde ci sta tutto e dopo questo spoiler del tempo a Milano andiamo a guardarci la live. Innanzitutto sorpresa delle sorprese non indossa un pigiama, cioè non indossa la maglia del pigiama, probabilmente perché devono uscire, comunque indossa una maglia beige con il collo a polo praticamente con la cerniera. Maglia semplicissima, non ci sono cartoni animati, non ci sono scritte, non ci sono loghi, non c'è nulla quindi è stranissima sta cosa e porta il codino, quindi diciamo che è strana questa cosa, insomma è la prima volta che lo vedo con una maglia così semplice e con una maglia da uscire fra virgolette. Comunque si comincia a parlare del tempo, di com'è il tempo nelle città degli utenti e quant'altro, ma la cosa bella succede quando gli chiedono se si trovano a viaggiare meglio in auto, in treno o in aereo e lui risponde che si trova meglio a viaggiare in auto, però se ci sono viaggi troppo lunghi da fare tipo Milano o Sicilia, lui farebbe Milano e poi imbarcherebbe, si imbarcherebbe con la macchina, a che gli dicono che la macchina lui la deve imbarcare per forza, perché insomma per arrivare in Sicilia la macchina poi la dovrebbe imbarcare appunto per arrivarci e lui rimane un po' stupefatto insomma, nel senso perché la devo imbarcare sta macchina per forza? E gli spiegano che c'è lo stretto di Messina e gli spiegano anche che non c'è altro modo di passare se non imbarcando la macchina sul traghetto e lui dice ma come, cioè io sapevo che i tanti amici miei ci andavano con la macchina e lì ancora una volta gli dicono guarda che la macchina ci puoi andare ma poi comunque la devi imbarcare e lui pensava evidentemente ci fosse il ponte, una volta scoperto che questo ponte ancora non esiste e a me sinceramente quando gli utenti gli hanno detto mi è sembrata scioccata anche un po' la Luciana devo dire la verità, mi è sembrata stranita di questa notizia, comunque quando gli hanno detto che questo ponte non esiste lui ha detto la genialata, cioè pensavo ci fosse una strada alternativa e lì sinceramente io penso che tutti gli utenti, io ci sono rimasta veramente stranita ma penso un po' tutti gli utenti e gli hanno spiegato che se ci fosse questa strada non ci sarebbe stato bisogno insomma del ponte, comunque lui a un certo punto ammette che ha detto una castroneria praticamente e uno, un utente, gli dice guarda non c'è nulla di male ad ammettere di aver detto di essere ignorante insomma di ammettere la propria ignoranza e l'altra perla, lui dice che non è ignorante. devo dire che questa cosa dello stretto di Messina e della strada alternativa a me si ha fatto ridere però in un certo momento mi ha fatto anche tanta tenerezza lui perché effettivamente è un semplicione, tante cose lui le ignora, vuoi per carenza di studi, vuoi perché non si informa, vuoi perché ormai non basterebbe una vita insomma per colmare le sue lacune e alle volte insomma fa anche tenerezza, se non fosse che lui risponde a chi gli dice appunto guarda sei ignorante ma non sei ignorante come offesa, sei ignorante perché non conosci determinate cose perché le ignori, ecco, e lui risponde con presunzione ed arroganza e lì veramente ti viene da dire ma guarda che sei ignorante forte, sei ignorante perché ignori e sei pure imbelle, sei imbecille perché imbelli, ecco cioè a questo punto prenditela tutta voglio dire. Poi si continua, lui cerca di far passare questo momento anche di imbarazzo suo, un autente gli dice guarda devi dire che ci stavi trollando perché altrimenti gli haters non la smetteranno più di prenderti in giro lui dice che no, che lui è così, è sincero e ha detto questa cavolata e comunque purtroppo non sapeva e quindi l'ha detta almeno ammettiamo che in questo caso non si è aggrappato al fatto di trollare gli utenti dopodiché insomma prosegue questa live e lui secondo me era abbastanza nervosetto poi se l'è presa anche con Luciana che non lo fa mai parlare diciamoci quello che è cioè questa Luciana che risponde a tutti, risponde al suo corrispondente, risponde alle persone che gli scrivono in chat e questo lo fa senza tener conto se in quel momento sta parlando o meno Davide cioè lei che è una persona logorroicissima proprio non fa altro che parlare senza neanche, ecco in questo caso senza neanche l'educazione di far parlare Davide che aveva preso per prima diciamo per primo la parola ecco e quindi si sfoga un po' con lei dicendo guarda sto parlando io ma gli ha detto anche in maniera abbastanza brusca lei prima dice di sì e poi continua imperterrita a rispondere a questa gente cioè proprio io ho fatto caso una cosa che se la Luciana è in live con Davide prende la mano, lui le può ripetere le cose 3000 volte, lei comunque fa finta di non capire fa finta proprio che lui non le abbia detto nulla e continua imperterrita a fare quello che fa a parlare, a parlare dei suoi corrispondenti e quant'altro se invece c'è la figlia in live con lei basta che le dice una cosa sola e Luciana si tace fateci caso cioè io non so se è per timore che la figlia possa avere un attimo di sproloqui nei suoi confronti, nei suoi confronti mettiamola così o perché sa che alla fine Davide è un bonaccione e quindi sa che può comportarsi in questa maniera io non lo so fatto sta che insomma quantomeno io questa cosa l'ho notata comunque questo è tutto perlomeno quello che mi interessava dirvi vi auguro una buona serata se volete iscrivetevi al canale tanto non vi costa nulla se volete lasciatemi un like se volete sempre lasciatemi dei commenti vi do un bacio e buonasera grazie a tutti grazie a tutti